c'è una per uno il ferie di sol cerchè anche quella dopo mh è lì il problema perché l'allarghi e vai fuori ma ti resta stupida e se la stringi è peggio è uguale va bene mistica pure il fischietto la persona mettiamola lì e l'ha il problema e ho detto che questo è un problema quello è un problema questo fa il secondo perchè devi fermarti e fa il secondo e riesci a fermarla come lui vedi io ho detto la stringi però anche stringerla non cambia tantissimo resti un po' più oh oh non è bello non è bello vai a casa cinque non è bello quello questo è il rezzo che ho voluto mettere fatto bene cazzo dove fa la differenza eh oh che cavolo vuoi che faccio i gialli come cazzo fate mi bastonano si ma qualcuno fa i gialli lo fanno lo fanno allora stretta come ho detto io non va bene perchè ha preso cinque eh ma anche allargarla dopo comunque ti ritrovi un po' cazzolto a stringerla eh grazie andiamo a casa ragazzi andiamo a casa e allora vedi che stringerla è quasi meglio però eh ma rischi eh occhio questo cos'è rosso o giallo? giallo cinque mini tria questo è Pietro allarga bene Pietro ah non è caduta allarga allargati Pietro e allora andiamo a casa davvero figaro noi andiamo ciao ci vediamo la prossima settimana ma siete impazziti qui cazzo 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 zero 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 ufff che ti senti al momento che te frega cazzo il pietro bravo e non voleva neanche venire faglielo cadere la sua montesa e allora a zero si fa queste cose la prima zona a zero ma porco diavolo che cavolo e serve per le api da fare il fumo va beh sono pericoloso cioè così le desancava più in moto le desancava più in moto porco diavolo vai selvatico fregatene non ascoltare nessuno non ascoltare nessuno bravo fa niente vai 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 portala fuori bravo vai bravo vai nella seconda zona vai alla 2 fai il giudice alla 2 vuole lo cominciamo a rubare sai